Musica Sono pessime le valutazioni sulla qualità della vita in provincia di Oristano certificate dal report curato dal quotidiano economico Italia Oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma che colloca l'oristanese all'89esimo posto delle 107 province italiane prima provincia quella di Milano ma sono tutte quelle del nord del centro Italia le aree del benessere e che spuntano i primi posti per qualità della vita quella di Oristano sottoposta come le altre ad un'analisi che è passata attraverso 92 indicatori ha segnato comunque due punti in più rispetto al 2023 ma risultando penultima provincia nei valori demografici con un incremento dei decessi e una diminuzione delle nascite in questa graduatoria ultima provincia risulta essere quella del medio campidano per quanto riguarda alcuni valori campione il picco più alto è la sicurezza 35esimo posto a seguire l'ambiente 68 il lavoro 77 e 79 il reddito l'istruzione 88 la sanità 101 il turismo 104 in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne l'ospedale San Martino di Oristano ha deciso di attivare un numero telefonico 0783 317 397 dedicato alle vittime di violenza risponderanno la ginecologa Emanuela Meloni esperta in violenza di genere e l'ostretica Gabriella Miscali della struttura complessa di ginecologia e ostetricia diretta dalla dottoressa Francesca Campus referenti dei percorsi sulla violenza di genere per l'ASL 5 lo sportello telefonico funzionerà come un punto d'ascolto a cui le donne potranno richiedere informazioni raccontarci la loro storia o avanzare una richiesta specifica per poterle aiutare direttamente o eventualmente indirizzarle allo sportello antiviolenza a percorsi di accoglienza protetta o di sostegno psicologico fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto ha spiegato la dottoressa Meloni l'evento rientra nel calendario delle iniziative promosse dalla Fondazione Onda Osservatorio Nazionale Sua Salute della Donna dal 21 al 27 novembre negli ospedali a cui è stato assegnato il bollino rosa Il prefetto Angeri presiede il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione e annuncia un investimento di 300.000 euro per creare opportunità per le imprese in carenza di manodopera L'inclusione occupazionale afferma riguarderà settori come l'edilizia l'agricoltura e il turismo a beneficio dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti Durante la riunione è stato presentato quindi il progetto Orienta Oristano Integra e Accoglie con la creazione di una tax force di otto nuove unità professionali di cui cinque presso la prefettura All'incontro hanno partecipato il questore l'assessore ai servizi sociali di Oristano e i referenti della Regione Sardegna dell'ASL di Oristano e dell'Ufficio Scolastico Provinciale della Caritas Diocesana e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dattoriali della provincia La Giunta regionale ha mantenuto gli impegni assunti a suo tempo disponendo il finanziamento per completare il progetto della trasversale sarda asse viario destinato a collegare Oristano con Tortoli e Arbatax passando per le regioni geografiche del Mandrolisai e la Barbagia di Belvi un tracciato di oltre 160 km destinato a collegare la costa occidentale della Sardegna con quella orientale attraverso un percorso volto a garantire sicurezza e minori tempi di percorrenza Costo stimato dell'Opera 2 miliardi di euro e per ora la Regione attraverso l'assessorato ai lavori pubblici ha disposto un finanziamento di 8 milioni di euro come si è detto per completare un progetto assai impegnativo la cui esecuzione definitiva con il finanziamento è affidato a soggetto attuatore opere e infrastrutture della Sardegna già incaricato di predisporlo nella sua versione di fattibilità tecnica ed economica si tratta di una infrastruttura strategica la cui esecuzione è destinata a modificare anche gli assetti del territorio che saranno attraversati dalla strada La Giunta Todde ha approvato la delibera che assegna fondi un milione e mezzo di euro per compensare il mancato sostegno economico agli studenti sardi Siamo intervenuti per sanare una situazione incresciosa creatasi negli anni tra il 2022 e il 2024 nei quali non sono state destinate risorse per l'alta formazione dimostrando una scarsa attenzione per l'importanza di questi percorsi che ha inoltre generato una disparità di trattamento tra laureati sardi ha affermato l'assessore del lavoro Desire Manca Molteplici le segnalazioni da parte di giovani studenti che hanno lamentato la delusione delle loro aspettative L'assessore Manca ha dunque proposto di destinare le risorse autorizzando a tal fine l'utilizzo di quota a parte dell'avanzo libero dell'agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro relativo all'anno 2023 affinché ciascuno possa avere pari opportunità In risposta ai disagi causati dai cantieri per la rete idrica e la fibra ottica il comune di Bosa ha deciso di sospendere i parcheggi a pagamento permettendo la sosta gratuita in tutti gli stalli blu L'assessore alla viabilità Marco Naitana giustifica la misura come un modo per alleviare i disagi ai cittadini durante i lavori che sono però essenziali per il miglioramento e la viabilità e potenziare tutte le infrastrutture Si chiede quindi ai residenti di avere pazienza fino a quando tutte le opere saranno completate Grazie a tutti